Salve ragazze, colgo l'occasione per farvi il video sui prodotti di skin care che sto amando di più in questo periodo Allora qui vi farò vedere i tester perché appunto sono ancora in negozio ma sapete che a casa ho i prodotti poi tanto nelle foto li vedete sempre utilizzati Allora iniziamo con le creme viso, che cosa sto utilizzando in questo momento? Tutto anche se penso che ora che stiamo andando ancora più freddo dovrò rinforzare un pochino il tutto Allora iniziamo con la crema da giorno che sto utilizzando Questa è la crema protettiva di NaturaEqua Il costo secondo me è più che abbordabile, costa intorno ai 19 euro Tra l'altro è un prodotto molto molto interessante, sono 50 ml di prodotto Questo è l'Incima, come al solito lo trovate sul sito NaturaEqua abbiamo fatto l'evento, quindi sapete che è un marchio che a me piace molto Ha fatto uscire queste tre nuove creme Vi ho fatto forse anche qualche video, qualche articolo da qualche parte E devo dire che le hanno praticamente azzeccate tutte Quindi a seconda del tipo di pelle sono riuscite a soddisfare più persone e più richieste Allora la crema è questa qui, la consistenza è esattamente questa È un prodotto che è adatto per le pelli sensibili Tra l'altro ha anche un pochino di acido ialuronico Quindi che non guasta anche per un discorso anti-age E appunto è una crema che promette di difendere le pelli sensibili Dal freddo, dal sole Devo dire che comunque nel mio caso si sta comportando molto molto bene Anche perché appunto sono iniziati i primi freddi Quindi sapete che io poi cerco sempre di trovare qualcosa che limisca un po' la pelle Poi un altro prodotto, anche qui sempre lo trovate in versione tester È comunque questa qui Che è la crema all'olio di rosa moscheta di Bio Earth Io la utilizzo esattamente nella versione giorno Ma la utilizzo da sera Oppure se magari un giorno ho bisogno di un'idratazione un po' diversa La utilizzo anche da giorno Ma prettamente la uso la sera Anche se in questo periodo poi ne ho testata anche un'altra Di cui comunque vi parlerò Vabbè, anche qui della linea di Bio Earth La rosa moscheta Penso di avervi parlato proprio in generale di tutta la linea A me è piaciuta molto Io ho provato diversi prodotti Tra cui il contornocchi Il latte detergente Il siero intensivo E questa E utilizzo questa da giorno La sera perché comunque Mi rimane leggera sulla pelle Ma nello stesso tempo mi lascia la pelle nutrita E' elastica E per niente appunto Un tappicci Cosa che ha un effetto Che a me comunque non piace Neanche di sera E tra l'altro hanno questo qui Questo vetro nero Che è molto molto elegante Qui il prezzo è un po' diverso Mi pare intorno ai 26 Ma devo dire che ce li vale tutti Tra l'altro il profumo di rosa È molto persistente Quindi deve piacervi il genere Poi rimaniamo sul viso E vi dico che un altro prodotto Che sto strautilizzando È questo qui Sempre di Natura Eco Questo costa 17 euro Ed è la crema con tornocchi Borsi e occhiaie Allora Questo prodotto ha solo il difetto Lo dicevo anche nell'evento Che ogni tanto il packaging si incastra Quindi scatta e ne esce un po' troppo di prodotto Però per il resto Devo dire che è un prodotto ottimo Perché va bene Sia di giorno che di notte Si picchietta facilmente Non è in grassa Anche se poi vi dovete truccare di corsa E quindi non volete aspettare Più di 10 minuti Per farlo asciugare Devo dire che si asciuga facilmente Potete mettere il vostro correttore Aiuta il correttore a durare di più A non andare nelle pieghe Decisamente un bel prodotto Come vi dicevo Non si deve farvi vedere poi gli inci Però insomma ci provo Sono 15 ml di prodotto E ha la caffeina La vitamina E Ma ha anche l'acido ialuronico Quindi insomma Un prodotto interessante Per quello che costa Secondo me Vale veramente la pena testarlo Poi due novità Queste volte due novità Di Biofficina Toscana Di questi vi ho già parlato Soprattutto se mi seguite su Instagram Oppure seguite Effetto Bio su Instagram Sapete che sono due prodotti Che io utilizzo molto Inizio con l'acqua micellare e frutti rossi Allora l'unica cosa che devo dire Rispetto ai prodotti A cui sono abituata io 200 ml Per un'acqua micellare Forse è un po' poco Però va anche detto Che a differenza degli altri Questa ne serve ancora meno Quindi io con questa E i pad struccanti Di Coler Caramel Di cui forse vi ho parlato Comunque anche lì Avete visto sicuramente In qualche foto Magari vi metto il link Mi riesco a struccare Completamente Quindi anche Un trucco occhio Un pochino più spesso Un pochino più elaborato Me lo tira via Ha questo complesso Di frutti rossi Il Rubiox E devo dire Che effettivamente Ha questo buon profumo Ha un profumo quasi Di yogurt e frutti rossi Ripeto Qualità Prezzo Secondo me Altissima Veramente Un buon prodotto Peccato solo Che la facciano In confezioni Così piccole Io sarei disposta Anche a spendere Magari un pochino di più Però per una confezione Un po' più grande Io lo sto utilizzando Dagli inizi Del Insomma Da quando è stata lanciata E sono più o meno Qui Quindi insomma È delicata È veramente Un buon prodotto E Tra l'altro Devo dire Che lascia la pelle Molto molto Distesa Cosa Non da tutte Poi un altro prodotto Che mi ha stupito In bene È Lo scrub Visto Sempre i frutti rossi È sempre lo stesso complesso Quindi il Rubiox E Devo dire Che è fantastico Perché Allora Nel caso Di una pelle Molto delicata Come la mia Fare lo scrub Non è poi una cosa Così Semplice E Qui Quando ho visto Anche l'Inci Mi era un po' Preoccupata Anche della menta Onestamente Vediamo se riesco A farvi vedere E Invece Devo dire Che è Fantastico Perché non è Molto Non è particolarmente Aggressivo Io riesco a fare Questo scrub Anche due volte A settimana Cosa molto rara Per me Perché di solito La mia pelle Ne risente Lascia La pelle Compatta Pulita Luminosa E Bella tonica Si sente L'effetto Della menta Ma non dà Fastidio Neanche Le pelli Più sensibili Come la mia Che ho una pelle Molto chiara E anche Molto fina Devo dire Che è un prodotto Assolutamente Consigliato Soprattutto Perché appunto Ha questi problemi Di sensibilità E anche qui Come invece Come rapporto Qualità Prezzo Ottimo Ma anche Come rapporto Quantità Prezzo Ottimo Perché è veramente Un bel barattolone Sono 100 grammi Poi Ne serve poco Perché comunque È molto Consistente Quindi Veramente un bel prodotto E sempre appunto Certificato Cruelty free E il profumo Anche in questo caso È fantastico Quindi se vi piace L'odore Il profumo Dei frutti rossi Non può mancare Questo è quanto Se avete dubbi Domande Come al solito Chiedete E noi ci aggiorniamo Al prossimo video